Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video, ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro, è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio, per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il Paterlini Molinire è un abbacchiatore pneumatico progettato per la raccolta professionale delle olive, distinguendosi per la sua leggerezza e l'innovativo design a ventaglio. Questo permette allo strumento di lavorare efficacemente tra i rami fitti, riducendo il rischio di danni alle piante e migliorando la produttività. I rastrelli vibranti trasferiscono le vibrazioni direttamente ai rami, facilitando il distacco delle olive con estrema facilità. Con un peso ridotto di soli 850 grammi, l'abbacchiatore Paterlini Molinire offre grande maneggevolezza e facilità di utilizzo. La sua struttura completamente intercambiabile garantisce inoltre una manutenzione semplice e una versatilità senza pari, rendendolo uno strumento ideale. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.